Tutto pronta a Marina di Ragusa per la prima Italia Cup Class Laser che può finalmente prendere il via. Ospitata dal porto turistico, la regata è scattata stamattina per concludersi sabato 4 novembre 215 in tutto gli iscritti alla manifestazione venistica proveniente da tutta Italia e perfino dalla Svizzera. La prova è valida come è noto quale prima regata di Renglist 2018 e al termine saranno assegnati titoli di campione nazionale 2017 over 16 maschile e femminile la Class Laser. Lo scorso fine settimana invece sempre al porto turistico della frazione si è ruota una regata zonale al fine di consentire a chi nel 2016 non si era classificato in alcun Renglist di ottenere il pass per le regate nazionali. Soddisfatti in queste ore organizzatori e dirigenti federali accorsi in gran numero per quanto è stato realizzato e proposto per la buona riuscita dell'evento e questo è stato ribadito dai più grazie ad un porto che fornisce adeguate garanzie di sicurezza e comfort e aver avuto assegnato una regata a tale livello testimone il grande lavoro fatto e la credibilità acquisita in oltre 25 anni di attività soprattutto dal circolo velico caucana.